Benvenuto Presidente. Peccato per il risultato perché l'Inter domenica sera meritava di più. Nel primo tempo non abbiamo giocato molto bene ma siamo migliorati molto nel secondo. Credo sia importante per la squadra, per l'allenatore e anche per me avere il piacere di vivere situazioni come questa. Allo stesso tempo c'è bisogno di ottenere risultati per il club e per i tifosi. È come stare in cima a una collina, c'è molto vento ma c'è da aspettarselo perché sei l'Inter. C'è molta pressione, molte aspettative perché siamo all'Inter e dobbiamo essere sicuri di dare il meglio quando abbiamo l'opportunità di giocare. Che cosa le è piaciuto di più della squadra? Dopo il mercato di gennaio la squadra è più bilanciata. Adesso abbiamo anche un'opzione per poter attaccare centralmente, non solo sulla fascia destra e sinistra. Allo stesso tempo abbiamo inserito un esterno che possa dare più equilibrio nel caso qualcuno si infortunasse e non potesse giocare qualche partita. Icardi ha confermato le sue qualità, possiamo guardare al futuro con ottimismo? Sono d'accordo sul fatto che Icardi possa essere una delle componenti più importanti ma una squadra è fatta di giocatori e non possiamo pensare di vincere solo grazie ad uno di questi. Allo stesso tempo abbiamo Milito, Palaccio, Botta e appunto Icardi. Tutti devono lavorare insieme per segnare perché in fondo non possiamo giocare in modo troppo difensivo, non ci porterebbe a segnare. Sabato sera ci sarà Roma-Inter. Che partita sarà secondo lei? Abbiamo giocato molto bene a Firenze quando abbiamo battuto la Fiorentina. Il campionato italiano è molto appassionante. Dopo aver ottenuto un punto in casa abbiamo bisogno di altri punti perché mancano solo 13 partite alla fine del campionato. In tutte le gare vogliamo fare bene per raggiungere i nostri obiettivi e giocare in Europa. Penso che non sia una buona cosa per l'Inter non giocare per due anni consecutivi in Europa. Come sono andati questi giorni in Italia? Sono stati giorni molto appassionanti e imprevedibili ma spero fortemente che la Serie A lavori unita con squadre, arbitri in modo da migliorare le partite perché la Serie A compete nel mondo con gli altri campionati come la Bundesliga, Premier League. Dobbiamo insomma lavorare insieme con tutte le sue componenti, vale a dire arbitri e squadre. Le chiedo un'ultima cosa. Che cosa vorrebbe dire ai tifosi in questo momento? È un periodo di transizione, durerà due o tre anni. Abbiamo ottenuto dei buoni risultati nel mercato di gennaio, abbiamo preso buoni giocatori. Speriamo di poter fare lo stesso a giugno per creare una squadra competitiva per l'Europa. Ci auguriamo di poter disputare una stagione importante l'anno prossimo, ma allo stesso tempo vogliamo essere certi che la squadra sia completa nei prossimi tre, quattro mesi. Credo sia importante avere un progetto condiviso con la dirigenza, l'allenatore e i giocatori. Grazie Presidente e ci vediamo al prossimo mese. Grazie a voi, ci vediamo al prossimo mese. Ci vediamo al prossimo mese.